Loro sono le uniche voci che vorremmo sentire, va bene? Cominciamo da questo momento, va bene? Grazie. Una marcia alla piazza 20 Settembre a Palazzo San Francesco che si è chiusa con 5 minuti di silenzio. Così il Comitato Scuole Sicure torna in comune per chiedere spiegazioni sulla fase 2 del post-sisma. Ne erano un centinaio stamane fra genitori e bambini, costricioni, cartelli e palloncini bianchi. Un serpentone di gente che non è passato inosservato e ha attraversato in silenzio una parte di corso video. Per la prossima settimana, con molta probabilità, mercoledì o giovedì, la giunta comunale metterà nero su bianco la questione dei MUSP chiesti per l'Istituto Masciangeli. E' quanto è venuto fuori dall'incontro che una delegazione dei genitori, al margine del corteo, ha avuto con l'assessore comunale all'istruzione Paolo Santarelli e il consigliere comunale Andrea Ramonno. Con le DO giovedì sì, comunque è già pronta la delibera e partiremo per l'acquisizione dei moduli dove portare i ragazzi della Masciangeli. 31-12 scade l'accordo, il contratto con la DO, c'è sì di Summona Valva. Quindi che cosa succederà per quanto riguarda quei studenti e quelle scuole? Il 31-12 noi abbiamo un impegno che ci siamo presi di trasferire nei moduli i ragazzi che oggi occupano altre scuole e quindi ritrovare per gli asili nuove zone, nuove scuole dove andranno ad essere allocati questi asili. Per quanto riguarda l'avvio dei lavori negli edifici scolastici con un coefficiente di vulnerabilità sismica inferiore alla norma, Santarelli e Ramonno hanno spiegato che si è dovuto attendere il certificato antimafia da parte della Prefettura. I ritardi di questa delibera sono legati essenzialmente a delle procedure burocratiche che in questa settimana si sono completate e quindi noi possiamo partire per la richiesta appunto di questi moduli scolastici. Per noi è fondamentale che non si interrompa il canale di comunicazione istituzionale con le famiglie che in questo momento altro non vogliono che essere informati sulla sicurezza e sul futuro dei figli e quanto ha precisato Franco Tavoletti, rappresentanza del Comitato Scuole Sicure. Un canale di comunicazione che sia bidirezionale nel senso che da una parte vanno raccolte e razionalizzate le ansie dei genitori, soprattutto perché non diventino anche le ansie dei bambini. Dall'altra vanno recepiti i passaggi, gli avanzamenti del progetto di messa in sicurezza delle scuole che a nostro avviso devono essere svolti in trasparenza ma soprattutto con l'efficacia massima possibile. Siamo arrivati fin qui in silenzio perché abbiamo percepito proprio un clima di silenzio negli ultimi giorni degli amministratori, ha aggiunto Barbara Zarrillo. A sostegno del corteo dei genitori, anche il consigliere comunale di Forza Italia, Elisabetta Bianchi e il coordinatore di Sovranità Valle Pelini, Alberto Di Giandomenico.